dimmi laide pronto nonna cosa cosa vuoi fare per cena tu perché io ho comprato il pollo se vuoi un pochettino te lo taglio a fettine sottili così riesci a mangiarlo con cosa hai fatto la merenda che non era marmellata era qualcosa l'anno non ho capito bene era un biscotto era qualcosa ho mangiato bella amichetta assieme ma il vasetto l'hai finito il vasetto l'hai finito no 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 mi raccomandi eh eh si no no adesso sto guardando Gina Lalo Brigida per l'ultima volta poi basta non guardo più hai fatto il caffè? ho fatto il caffè no lo vuoi? c'è quello che ho avanzato oggi si vengo a bere quello di oggi ecco va bene ti aspetto arrivo ciao ciao ciao